Buongiorno Etiopia Buongiorno Shalala Buongiorno a chi ha tanto da insegnare e a chi ha sempre voglia di imparare Buongiorno a chi lavora la terra e alle api che ci offrono il dono più dolce Buongiorno a chi va al mercato Buongiorno a chi si sveglia anche oggi nel tuo culo Buongiorno alle donne, nessuna esclusa ad ogni piccola e preziosa goccia d'acqua Buongiorno al caffè Un rito antico e quotidiano Buongiorno a chi si prende cura oggi e a chi lo farà domani Buongiorno al TF e a Lengera che scalda e unisce Buongiorno a chi sorride A chi gioca Buongiorno alle stalle alle mucche al fieno e al latte Buongiorno a chi dona il suo tempo a chi prega a chi corre e a chi non si ferma mai Buongiorno alla memoria e ai ricordi A chi costruisce il domani il suo domani Buongiorno a chi vuol prendere in mano la sua vita e a chi non smette mai di sognare Dal 1989 siamo al fianco di Shalallah per trasformare ogni giorno in un buon giorno a chi non smette mai a chi non smette mai